Salve a tutti, sono Giuseppe Barbera, presidente dell'Associazione Tradizionale Pietas e rettore del Tempio di Giove che qui vedete alle mie spalle. Sto ricevendo numerose telefonate, email in questi giorni da parte di tante persone che cominciano a porsi dei dubbi, a chiedersi cosa stia accadendo, se per caso tutti questi avvenimenti di questo periodo non siano il segno di qualcosa di forte, di particolare, di insolito. Ebbene, di fronte alle numerose richieste che ho ricevuto, ho pensato a doveroso dover fare un video nel quale esplicare quella che è la nostra visione e posizione nei riguardi dei fatti attuali. Stiamo vivendo un momento di transizione, transizione significa passaggio e un po' è previsto da tanto tempo, noi nel 2012 si parlava di fine del mondo, dove però per fine del mondo si intendeva passaggio di un'era calcolato dai maia, ma stiamo vivendo anche il passaggio di quello che è sempre stato annunciato come il momento di ingresso nella famosa era dell'acquario, una nuova epoca in cui tante cose sarebbero cambiate e mutate. Qualche anno fa Fabio Sipolino mi contattò per farmi un'intervista e nelle sue domande mi disse ma secondo lei accadrà che ci saranno in futuro dei partiti di matrice spirituale, partito pitagorico per esempio, partiti di nuova spiritualità e via dicendo? Io penso che questa sua domanda sia lungimirante e abbia capito quello che accadrà nel futuro, perché il mondo sta cambiando e attualmente sono le forze della natura che stanno riprendendo il loro posto e poiché gli dèi appartengono alle forze della natura, il tempo degli uomini sta venendo un po' meno a favore del tempo degli dèi, del tempo della natura, del tempo di quelle forze che appartengono all'essere umano ma che sono anche esterne ad esse e con le quali l'uomo deve imparare a convivere. Lo vediamo benissimo, siamo stati costretti dalla natura a fermarci, perché il tempo sta cambiando, il tempo vecchio è stato fermato, è stato bloccato, siamo tutti quanti costretti ad uno stop, una cosa insolita. Basta leggere gli articoli dei giornali per trovare frasi particolari. Un articolo diceva sembra di essere nel Diesire, un momento di vuoto completo delle città, un momento nel quale le grandi religioni si stanno soffermando a fare preghiere e quant'altro. Nella nostra visione tradizionale noi insegniamo nel Tempio che è tipico dei tempi in mutamento e noi addirittura teniamo dei calcoli antichissimi che servono a seguire i mutamenti nelle ere nei passaggi mensili delle lune, per esempio. Esistono dei cicli di lunazioni che durano 28 anni, corrispondenti al movimento della luna nel suo sorgere all'orizzonte, perché la luna non sorge sempre nello stesso punto, ma ci sono dei gradi che mutano. I sacerdoti antichi notarono che in base a dove le lune sorgessero si innestassero eventi nuovi che poi ritornavano a ritornare dopo 28 anni del sorgere la luna in quel punto. Noi ad esempio dai calcoli nostri avevamo già previsto che ci sarebbero state in queste lune delle epidemie. La visione antica è che l'epidemia viene per smuovere delle forze e l'uomo deve essere preparato all'epidemia che sta per giungere. Ecco perché gli antichi facevano i loro calcoli e raccoglievano le loro osservazioni per individuare quando sarebbe capitato il momento in cui stare attenti. Ecco, noi siamo nel momento della transizione. in cui le lune già hanno predisposto che debba esserci questo fenomeno e non si può fare nulla se non affrontarlo con intelligenza. Però l'uomo ha perso il contatto del calcolo del tempo, ha perso la sintonia con il mondo, con il cosmo, ha perso l'idea dell'eterno fluire e dell'eterno ritorno del mito. Quindi non ci si rende più conto di che cose sono i cicli, non si dà più importanza alla fondamentalità del contatto dell'uomo con la natura. Se l'uomo avesse tenuto importanza di questo contatto, non avrebbe fatto perennemente tagli alla sanità, ma si sarebbe preparato al ritorno di un'epidemia, perché ogni secolo ritorna il male del secolo, ogni secolo ritorna a un'epidemia terribile. E questo è stabilito dai tempi, perché la natura ha anche dei tempi, dei tempi nei quali manifesta delle forze. E non si può scappare da queste forze, è un atteggiamento dai maturi, pensare che non ritorneranno, pensare che non esisteranno. L'atteggiamento da uomini maturi è quello di prendere coscienza degli eventi, di prendere coscienza e prevedere quello che accadrà, ed essere preparati. Invece la nostra è una società impreparata che sta affrontando, alla meno peggio, una situazione devastante come questa. Il nostro invito dal Tempio di Giove è quello di ritornare allo studio della natura, a quella sintonia fondamentale dell'uomo con la natura, di comprendere che tutto è forza, tutto è chimica, ma tutto è forza, tutto è energia. Alla fine se noi andiamo a scendere un atomo, che cosa troveremo? Energia. Solo quello che costituisce tutto l'universo. La materia che cos'è? Non è che è una trasformazione dell'energia. L'atomo primordiale era energia pura, esplode e si crea la materia. Il processo inverso è quando noi facciamo collidere la materia, come nella bomba atomica, e gli atomi si disintegrano, liberando energia. Quindi energia e materia sono connesse. Negli ultimi duemila anni abbiamo avuto dei culti che ci hanno voluto imporre l'idea che spirito e materia fossero cose distinte. In questo modo abbiamo coltivato la materia come un qualche cosa di distaccato dallo spirito, e adesso non la sappiamo più gestire. Invece bisogna capire che materia e spirito sono strettamente connessi, perché nell'universo tutto è uno. E se noi vogliamo ritornare a gestire la materia, dobbiamo, per forza di cose, ritornare alla spiritualità, ma alla spiritualità reale dell'essere umano, a quella concreta, non alla spiritualità delle fantasie e delle superstizioni, alla spiritualità della percezione di ciò che realmente esiste nel metafisico. Guardate che lo stesso Aristotele scrisse dei trattati sulla metafisica. Non è qualche cosa dal quale possiamo trascendere, nel quale possiamo far finta che non esista, perché nel momento in cui rifiutiamo di accettarla ci ritroviamo poi in queste situazioni dove non sappiamo gestire ciò che si muove. Invece il nostro messaggio, il nostro invito è il ritorno alla spiritualità. Noi abbiamo eretti templi per questo motivo, perché la gente potesse avere dei luoghi di scienza spirituale, non di misticismo al quale siamo fortemente contrari, ma luoghi atti alla presa di coscienza. Tutte le società del pianeta, prima di diventare pesantemente sedentarie come la nostra, raggiungono e conservano uno stadio primitivo di passaggi iniziatici. Andate a studiare le società andemanesi, andate a studiare le società primitive di tutto il pianeta. Ovunque l'essere umano stabilisce un rapporto di sintonia con la natura e in questo rapporto di sintonia stabilisce dei passaggi iniziatici dove i giovani che diventano maturi devono passare attraverso l'iniziazione per imparare a conoscere la dimensione del metafisico e imparare a conoscere la dimensione dello spirito. Nel momento in cui la società ha perduto questi passaggi ha perso cognizione e coscienza di che cos'è il metafisico, di che cos'è lo spirito e lo vive in maniera animica cioè la società di oggi vive le passioni animiche come se fossero spiritualità quando lo spirito e l'anima sono due cose distinte. Anche questo fa parte del percorso formativo dell'uomo. Quindi per tutti i colori quali vogliono i tempi sono aperti e basta che visitate i nostri siti tradizioneromana.org troverete tutti i riferimenti necessari e qui noi insegniamo e diamo aiuto alle persone che sono intenzionate a farlo a intraprendere un percorso verso la maturità spirituale e imparare a prendere coscienza di che cos'è l'uomo di che cos'è la vita e di che cos'è il mondo. Grazie fatevi forti e non vi abbattete ricordate quello che dice Pitagora tu abbi fiducia e confidenza poiché l'uomo è della razza degli dèi Ad Maior